buongiorno ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero e come sempre invito i miei studenti a fare attenzione guardare bene le carte se hanno voglia mettere in pausa e dare la loro interpretazione cominciamo con l'energia di oggi sto usando il mazzo misto come vedete e iniziamo con un 6 di coppe rovesciato con un 4 di spade il papa un 4 di bastoni e una luna rovesciata allora che energie particolari sono le energie di chi non si sente aiutato perché cominciamo con un 6 di coppe rovesciato che in questo particolare mazzo ovviamente lo giro per farvelo vedere meglio non so da che parte però ecco questo 6 di coppe è un lui un giovane uomo che aiuta una giovane donna ad arrampicarsi su questa specie di montagna di collina superare questo muro quindi questo è un 6 di coppe molto bello perché parla dell'aiuto reciproco che le due anime si danno nella loro evoluzione personale quindi qualunque cosa accada le due anime sono lì non per aiutarsi ma per far sì che l'altra impari il suo compito quindi si tratta di un aiuto ma in realtà indiretto non diretto quindi è una cosa sbagliatissima per esempio quando fra anime succede che tu non sai fare una cosa la faccio io per te tu non sei in grado di essere dolce gentile e carino e io lo sono per tutti e due no è sbagliatissimo perché l'altra anima non imparerà mai a fare la sua parte in questo caso in questo caso noi vediamo che con la carta rovesciata qualcuno che ha provato ad aiutare l'altro non è riuscito però come vi stavo dicendo ci sono due tipi di aiuto c'è l'aiuto lo faccio io al posto tuo o c'è l'aiuto io ti insegno come si fa ecco e questo l'anima deve capire questo in questo caso la nostra anima le nostre anime non riescono a darsi una mano quindi qui ci sono due persone due anime che si sono incarnate per vivere insieme un'esperienza per sciogliere un karma per stare insieme per condividere questa esperienza imparare qualcosa per poi anche eventualmente decidere se stare insieme oppure no dopo avere condiviso l'esperienza ma in questo caso porca miseria c'è qualcosa che non va cioè queste due anime non stanno riuscendo a fare un passaggio importante non stanno riuscendo ad accompagnarsi nel cammino nel percorso e ripeto non vuol dire faccio io le cose al posto tuo perché tu sei scemo tu sei scema e non capisci aiutare l'aiuto fra anime è un aiuto di tipo diverso è un io aiuto te a imparare a fare una cosa come beh in mille modi per esempio posso insegnarti a faccio un esempio stupido tu mi rubi i soldi dal portafogli la notte mentre io dormo tra l'altro stupido mica tanto perché tempo ma tanto 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 tempo fa mi capitò una roba del genere con un ex sociopatico borderline di cui magari un giorno vi parlerò più nel dettaglio e quindi se tu mi rubi i soldi dal portafogli e io come anima o poverino e perché non ce la fa e perché ha bisogno di soldi e perché io ne ho di più e lui ne ha di meno e quindi si sente inferiore non ha il coraggio di chiedermeli se io per essere buona comprensiva gentile generosa e tenermi quella persona a fianco non gli dico nulla quell'anima non imparerà mai l'onestà non imparerà mai la sincerità la correttezza se invece io gli dico tesoro mi mancano 50 euro dal portafogli e lui mi risponde ah no io non ne so niente lì io ho l'occasione per insegnargli qualcosa lì io ho l'occasione di dirgli ascolta non mi interessano le tue bugie so che c'erano quei 50 euro so che tu li hai presi perché l'unico che poteva prenderli quindi punto primo tu adesso ammetti di averli presi punto secondo me li restituisci e se non farai entrambe queste cose entro ora subito ciao questo è un insegnamento un'anima che insegna una lezione dura a un'altra anima molte volte gli insegnamenti avvengono proprio così il motivo per cui noi non impariamo perché non riusciamo a fare così ecco quindi con questo seguito perrovesciato qualcosa non funziona qualcosa non va siamo imbrigliati in questo nodo carmico con questa persona e sembra che non riusciamo a fare dei passi in avanti oltre un certo punto mai oltre quel punto tanto che a un certo punto decidiamo di basta di fermarci quattro di spade cioè inutile e inutile continuare a insistere far le cose sempre nello stesso modo se non funziona quel modo quindi ecco che il quattro di spade ci parla di questa sorta di pausa di momento di relax che noi ci prendiamo e la carta del papa la carta del papa in effetti sostiene che è un'ottima scelta questa di prender tempo questa di non insistere non andare a non andare a pungere sempre nello stesso punto sperando appunto di ottenere risultati differenti questo papa ci dice che stiamo facendo la scelta migliore nel fermarci momentaneamente mettiamoci un attimo in pausa lasciamo piuttosto che le cose accadano e anziché agire cominciamo a reagire semmai quindi non prendiamo iniziative ma semplicemente limitiamoci a reagire alle iniziative che vengono prese dal mondo circostante il quattro di bastoni successivo ci dice che in effetti in questo modo il percorso è percorribile assolutamente sì è un percorso percorribile lentamente questo è chiaro è come una scala da salire guardate un po la simbologia di questa carta di questo quattro di bastoni che è molto diverso dai significati classici dei quattro di bastoni qui abbiamo delle persone che stanno scalando questa collinetta per arrivare in cima a questa sorta di costruzione quindi c'è la scala la scala è in salita il cammino non è semplice non è facile e non è in discesa è un po faticoso ma queste due persone sono attrezzatissime hanno bastoni hanno zaini sono quasi arrivate tra l'altro quindi non manca nemmeno molto e allora cosa possiamo comprendere da questo possiamo comprendere che la strategia non solo è giusta ma è più che giusta perché sembra che siamo fermi ma in realtà stiamo solamente andando avanti più lentamente e forse tutto quello che causava problemi era il la fretta nostra di voler fare le cose subito in un certo modo l'ultima carta è quella della luna rovesciata una luna diritta parla di mistero parla di segreti e cose che ancora noi non conosciamo una luna rovesciata invece ci dice che forse proprio con questo atteggiamento iniziamo a vedere qualcosa di nuovo forse proprio comprendendo che l'atteggiamento da papa cioè l'atteggiamento maturo serio responsabile che non fa nulla si ferma ma si affida a dio perché il papa si affida alla divinità ecco questo forse è proprio quello che comincia piano piano a farci vedere degli spiragli di luce nel secondo livello ragazzi noi vediamo come le carte rovesciate possono avere diversi tipi di interpretazione dipende dall'autore dal contesto in alcuni casi è un blocco energetico in altri casi è un'inversione della polarità energetica in questo caso la mia personalissima interpretazione che ovviamente può essere diversa dalla vostra che guardate è che dall'energia del mistero e delle cose sconosciute rovesciando noi invertiamo invertiamo la polarità non la esasperiamo non la amplifichiamo ma semmai ciò che era nascosto comincia piano piano a venire fuori inoltre vorrei aggiungere anche prima di prendere la nostra cartina oracolare che qualcuno di voi avrà a che fare con i suoi nipotini quindi nipoti e colore rosso sono due indizi fondamentali che queste carte ci stanno dando per la giornata di oggi vi ripeto questo oracolo è valido per il momento in cui lo vedete quindi ora che lo state guardando e se voi fate parte appunto di quelli di quelle persone che oggi guarda caso proprio oggi avranno a che fare con i loro nipotini o comunque con ragazzi più giovani perché insomma stiamo le carte vanno interpretate quindi la parola carta dei nipoti parla anche di giovinezza parla di persone giovani che possono far parte della nostra vita anche i figli volendo e il colore rosso sono curiosa di sapere come mai questo colore rosso fa capolino per noi qui oggi ma posso anche dirvi posso consigliarvi comunque di vestire di rosso se vedete questo video di mattina e non siete ancora vestiti oppure comunque state uscendo e non sapete cosa mettere il consiglio per questa giornata è di indossare qualcosa di rosso considerando anche che ogni colore ogni frequenza stimola in noi una determinata reazione emotiva energetica quindi indossare abiti di un colore o di un altro non è indifferente cambia tantissimo allora adesso prendiamo la nostra cartina il nostro angelo di oggi è l'arcangelo ariel con la carta della forza ebbene sì in effetti ci dice che dobbiamo avere una grande forza interiore è importante avere una grande forza interiore per comportarci come il papa e rimanere rigidi rigidi ligi nelle nostre posizioni e quindi impedirci di fare altre stupidaggini dobbiamo sicuramente lavorare molto sul liberarci dalle emozioni più brutte più negative quindi il giudizio il criticare gli altri l'odio insomma tutta tutta questa roba forse perdonare voi stessi innanzitutto è quello che gli altri vi hanno fatto è veramente la chiave cominciare a provare compassione perché bisogna rendersi conto che quando gli altri sono cattivi e ci fanno male non lo fanno perché sono cattivi lo fanno perché soffrono o perché nella loro vita hanno sofferto talmente tanto da diventare cattivi quindi ecco che la cattiveria non è una cosa genetica la cattiveria è un qualcosa che nasce in base a come gli altri trattano noi da piccoli punto semplicissimo ed ecco perché è così importante non giudicare è ovvio che potete arrabbiarvi se qualcuno si comporta male con voi ma arrabbiatevi con consapevolezza come fa la mia amica stefania bruca stefania e lei ha avuto un grosso problema con una persona con un'amica in comune e adesso lei si è arrabbiata per come si è sentita trattata ma quando qualcuno le chiede cosa è successo anziché criticare parlare male insultarla lei risponde semplicemente ma niente pazza quindi capite cosa voglio dire è un è un modo per elaborare ciò che accade elaborare il modo in cui gli altri si comportano con noi e comprendere che quando una persona sbaglia quando una persona si comporta male è perché non sa comportarsi bene non è in grado di farlo non è proprio non non è capace non ha imparato a farlo perché perché qualcuno non gliel'ha insegnato da bambino per esempio o da adulto per esempio quindi ragazzi io spero come sempre di esservi stata utile mandate scrivete fate quello che volete e noi ci vediamo domani